quanto costa la manutenzione di un camper? Vecchietto VS nuovo vi leggo un'anticipazione braccetti, testina dei braccetti, cuscinetto ruota anteriore cuffia semiasse questa lista prosegue ma vi lascio i dettagli di ciò più tardi Veronica, un camper nuovo quanto costa la tua manutenzione? ovviamente col camper nuovo almeno così si spera almeno il primo anno è in garanzia però ho già dovuto fare una prima manutenzione che è richiesta dalla casa madre dopo sei mesi per le infiltrazioni quindi per fare una verifica che non ci siano infiltrazioni di acqua infatti fanno tutto un check di tutto quanto costa? dunque l'ho pagata mi sembra 150 euro una cosa del genere vabbè abbordare vabbè sa da fa poi invece ho fatto delle piccole modifiche perché erano quelle per me fondamentali ho fatto mettere tre prese di corrente sotto al tavolino dove io lavoro perché allora adesso io per carità non è che voglia insultare gli ingegneri che hanno messo appunto a me hanno messo le prese elettriche in dei posti fondi allora non è che voglia insultare cioè per carità io rispetto ognuno fa il suo lavoro eccetera ma se tu mi metti l'unica presa che c'è qua sulla cucina ma secondo me l'ha fatto per una questione economica sulla cucina io vuol dire anche io ogni volta che devo attaccare un cavo ce lo devo fare il limbo per andare da un punto e quelle prese erano pensate per un mini peamer un frullatore un elettrodomestico in cucina lo so però il tuo camper è nuovo al mio tempo il pc non esisteva quindi nessuno non poteva pensare che c'erano ma oggi esiste però quindi insomma a morale della favola ho fatto mettere tre prese qui sotto comodissime perché così io con tre hai voglia cioè sto a posto capito io ho comprato una sciabatta e ce l'ho messa da sola ecco no vabbè ma io non avevo proprio non avevo proprio nessuna presa qua cioè doveva comunque mettermene una alla fine lui mi ha detto senti te ne metto tre che invece che fare la sciabatta che è volante eccetera effettivamente ha fatto un lavoro egregio mi piacerebbe farvelo vedere ma è sotto quindi è un casino l'altra cosa che ho fatto è stata anche qui hanno fatto un'altra cosa meravigliosa di questo camper è che ha un armadio vero ma non tanto perché fosse stata per i vestiti ma più che altro per l'accessibilità dei vestiti o di altro perché gli armadietti solo sopra il letto sono scomodi ti devi sempre arrampicare per prendere le cose solo che hanno avuto hanno fatto questo meraviglioso armadio senza ripiani cioè c'è solo c'era solo un bastone giuro eh un bastone nella parte alta poi c'era era un appendijac sì ma aspetta poi c'è la parte sotto alta perché era una roba alta così senza un ripiano cioè niente quindi la cosa io che sono sempre la versione povera di te ho usato delle scatole ecco lavatute alla fine ho detto vabbè faccio un bagno faccio un investimento mi ha fatto i ripiani un'altra vita tra l'altro è un armadio enorme sfruttato così perché ho ho tre ripiani sopra e due ripiani sotto ma credimi cioè con un sacco di spazio anche io mi sono reso conto che tendo a portarmi dietro molta più roba di quanta mi serve realmente mi sto facendo un po' la minima spazio metto giacche no cioè arrivo al camper con dei vestiti li appendo dentro poi capace esco che è più caldo ce li lascio il giorno dopo ritorno con altri no e accumulo Fabio sei peggio di una donna mi vuoi dire sono sempre stato un accumulatore seriale pensa che in casa io avevo una stanza dedicata alle scarpe ma veramente ero solo la casa è grande io avevo una stanza con le scarpe stesse a terra così che mi entravo mettevo e andavo via mi viene in mente molto è di là la Carrie Bradshaw di Sex and the City è una roba super cheap però io ci rimango affezionato non do mai via allora la manutenzione la manutenzione poi le altre per finire le altre cose di manutenzione più che altro sono delle checklist di cose che devo ricordarmi di fare tipo d'inverno svuotare i serbatoi perché se no gela ecco una cosa che mi hanno detto importantissima non lasciare col freddo col gelo l'acqua nel circuito perché mi hanno detto che lì esplode ed è un danno vero io però quest'inverno ci ho vissuto in camper non ho aspetta perché tu ci vivevi ma io che l'ho rimesso perché non ci ho vissuto tutto il tempo in camper mi hanno detto assolutamente di svuotare il circuito perché quello può creare vera perché ha detto se gela veramente ti scoppia l'impianto certo esatto e lì mi ha detto che sono cavoli veri i miei costi di manutenzione invece sono stati abbastanza importanti io ho acquistato un camper del valore di circa 10.000 euro comprato tornando a casa mi si ruppe ebbi dei problemi ai treni proprio nel viaggio d'acquisto mi si sganciò il letto basculante sopra insomma un po' di cavoli alcuni mobili nelle settimane successive cassetti che si aprivano alla prima curva pareti che si spostavano un po' perché erano venuti via fissaggi tante cosette sostanzialmente quando prendi una casa usata è un po' come una casa va risulturata quindi ho dovuto fare una serie di interventi primo di tutto ho avuto il controllo dell'impianto a gas controllo dell'impianto a gas sistemazione del letto in concomitanza perci fare l'aggancio anche al motore che mi caricasse la batteria quando era in moto la batteria quella della cellula insomma spesi 550 euro dopodiché ho fatto qualche altro piccolo intervento tipo ho cambiato gli scarichi eccetera eccetera per un totale di facciamo un 300 euro un costo importante che ho avuto è una volta da Bologna mi si allentò un dado della pompa del gasolio sostanzialmente cosa che mi lasciò a piedi il danno in sé 300 euro dal meccanico per riparare la pompa del gasolio ma 650 euro di carattrezzi un'altra volta mi è scoppiato un pneumatico in autostrada quindi il kit gonfia e ripara non va bene al che da quel giorno lì consiglio a tutti di portarsi la ruota di scorta controllate di averla fa comodo perché anche se viene il carattrezzi però vi monta la vostra ruota e ve ne andate se non avete una ruota eh siate felici se è domenica aspettate il lunedì nella speranza che qualche eh negozio qualche insomma ufficina abbia il vostro pneumatico una misura rara è un camper quindi noioso anche in quel caso tra ruote nuove carattrezzi dall'autostrada eccetera eccetera circa 900 euro in questo momento sto facendo un restyling del camper io pensavo che la mia distribuzione che fosse il momento di fare la cinghia la distribuzione in realtà non è così ma ho fatto fare un check up totale del camper quindi ho da cambiare i braccetti le testine dei braccetti i cuscinetti ruota anteriori sinistra e destra le cuffie dei semiassi per quattro la scatola dello sterzo perde olio quindi devo cambiare tiranti per due testine di sterzo per due il supporto del cambio inferiore si è rotto tutta roba di cui non mi sono accorto cioè io lo portavo meccanica e ho detto per favore controllate l'amico tutto alla guida per me andava il kit pasticche ganasce posteriori le pasticche anteriori i dischi sono ancora buoni perché è un camper che ormai sono a molti chilometri e vi giuro che un camper pesante come il mio quando si fa una discesa i freni servono buoni quindi preferisco non rischiare da questo punto di vista certo poi ammortizzatori anteriori e posteriori che dopo 30 e passa anni eccetera giustamente sono finiti filtro olio filtro aria gasolio la distribuzione per ora aspettiamo olio motore cavo di vari spenderò ben oltre i 2000 euro quindi un intervento importante insomma il camper sotto alcuni aspetti è quasi un'altra casa e quando si compra un camper anzianotto soprattutto se quel camper è stato fermo a lungo dovrete fare diverse spese oltre alla questione imprevisti carattrezzi vi consiglio quindi di fare un'assicurazione che preveda carattrezzi e quant'altro di organizzarvi con una ruota di scorta per la piacevolezza dei vostri viaggi perché appunto poi un fermo non voluto prolungato è molto noioso e di controllare prima tutto andate da un meccanico probabilmente questo check up se io l'avessi fatto sin dall'inizio in realtà ci avevo provato però evidentemente non mi ero spiegato bene di portarlo appunto a una persona dicendo so che ho risparmiato all'acquisto però per favore controllami tutto ci sta quando si compra un'auto usata io ho avuto molti mezzi d'epoca che appunto quando lo compri c'è da fare una serie di spese se la vuoi plug and play tendenzialmente spendi meno perché faccio un esempio io ho pagato 10 sul camper ci ho speso 3 non è che domani il mio camper lo vendo a 13 lo vendo a 12 non è che tutti i soldi che ci spendi vanno in valore del mezzo che hai lo vendo a 12 se ho fortuna quindi tendenzialmente anche se acquistate un usato vecchio acquistatelo che funzioni già tutto a meno che non siate poi voi da solo in grado di farvi gli interventi perché altrimenti insomma il meccanico costa e non è nemmeno facile trovare i meccanici perché serve che abbia un ponte molto robusto e un capannone molto alto e soprattutto su mezzi vecchi tanti ti dicono non ci voglio mettere le mani perché appena smonto una vite me ne casca a mano tre e non ho voglia poi tanto tanto si finisce che si litiga perché io ti dico guarda per fare un lavoro che normalmente è da mezz'ora quindi te ti aspetti che io ti chieda un lavoro un costo da mezz'ora ne impiego tre perché arrivo lì e il bullone arrugginito non si svita la plastica imporrita non si rinfila quindi tanti meccanici non ci vogliono lavorare su mezzi anziani e i pochi che ci sono hanno poco tempo perché hanno altri dieci che devono fare la stessa cosa sono molto bravi di tutto il meccanico che mi ah un altro danno ho avuto una volta mi si ruppò un raccordo dell'acqua quando ero a Cassino per cui mi si svuotò gli impianti di raffreddamento lì tipo trovavo il meccanico che mi fece tutto a un costo molto accessibile fu molto gentile 250 euro però me l'ha tenuto una settimana io non dovevo stare per fortuna dovevo stare una settimana a Cassino perché sennò ero nel Cassino e nel frattempo ho dovuto spendere soldi in un albergo perché poi dove vai quindi no no infatti ma allora io è uno dei motivi per cui ho poi ho scelto un camper nuovo perché volevo avere delle tranquillità di meccaniche di soprattutto più che altro non rischiare di fermarmi in strada da donna perché poi credo che in questo in questo caso possa incidere almeno per me cioè a livello proprio di sicurezza se mi fermo in mezzo al perché sto viaggiando ma guarda da uomo o da donna se fai tanta autostrada il problema dell'autostrada italiana è che ci sono lunghi tratti senza la terza corsia d'emergenza e senza piazzole se ti fermi lì sei terrorizzato questo è un problema sei grosso cioè non è che ti metti da parte bene e i camion ti passano bene di fianco e poi quando passa un camion sbarnirelli terrorizzi eh sì sì quindi questo sì va bene direi che la manutenzione di un camper imparata imparata ecco manutenzione di un camper imparate un pochino a farvela da sotto perché sì per quello per quello che si può un minimino un minimino può servire la finestra che si rompe una notte di vento devi sopperire quindi attrezzi sempre con sé io per quello c'ho sempre il buon tape il tape grigio sei quello quello lo scotch quello grigio lo scotch americano è scotch americano salva la vita scotch americano e attrezzi base sempre con me quello quello ce l'ho anch'io perché per qualsiasi cosa il tape a me ha salvato tante volte ce l'ho dall'auto a quando andavo in giro sì sì ci riparo la vita va bene ciao Fabio alla prossima ciao alla prossima